La donna peccatrice ci insegna il legame tra fede, amore e riconoscenza. All'udienza generale, Papa Francesco si è soffermato sul brano del Vangelo di Luca in cui vengono messe a confronto due figure, quella di Simone, lo zelante servitore della legge, e quella dell'anonima donna peccatrice. Gesù, che è libero perché vicino a Dio, che è padre misericordioso, accoglie la giovane che si getta ai suoi piedi in lacrime. Egli non teme di essere contaminato, non tratta la peccatrice come una lebrosa, perché nei suoi gesti vede la sincerità della sua fede e della sua conversione. La parola di Dio, ha chiarito il pontefice, ci insegna a distinguere tra il peccato e il peccatore. Con il peccato non bisogna scendere a compromessi, mentre i peccatori, cioè tutti noi, siamo come dei malati che vanno curati. Tutti noi siamo peccatori, ma tante volte cadiamo nella tentazione dell'ipocrisia. dirò un po' di crederci migliore di le altre. Ma guarda tu il tuo peccato. Tutti noi guardiamo il nostro peccato, le nostre cadute, i nostri sbagli e guardiamo il Signore. Questa è la linea di salvezza, il rapporto fra io, pecatore, e il Signore. Se io mi sento giusto, questo rapporto di salvezza non si dà. Prima dell'udienza generale, Papa Francesco ha incontrato gli atleti della Federazione Austriaca di Ski, invitandoli a essere sempre messaggeri della forza unitiva dello sport e dell'accoglienza, così come pure della salvaguardia dell'ambiente. Voi siete modelli, soprattutto per molti giovani, aggiunto, ma siete anche figure di integrazione, non solo per le prestazioni sportive, ma per le virtù e i valori rappresentati dallo sport. Impegno, perseveranza, determinazione, correttezza, solidarietà e spirito di squadra.